Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come avete letto dal titolo speciale 1000 iscritti mamma mia sono riuscito a sfondare la barriera dei 1000 iscritti, non ci credo neanche io esattamente sabato 5 giugno alle ore 22 questa persona con il suo canale youtube ha sfondato la barriera dei 1000 iscritti sono davvero davvero in debito con voi, in verità non volevo fare neanche questo speciale perché mi era un po' da sfigato però cosa dirvi, 1000 volte grazie, grazie a voi che si assonate questo canale, vedo che i miei video vi stanno piacendo vi sto parlando proprio tranquillamente, serenamente, 1000 volte grazie, grazie di tutto continuate ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video 1000 iscritti, è cambiato qualcosa? No, mi sono montato la testa? No, continuerò a fare quel che cazzo mi pare su questo canale youtube possono essere 1000 iscritti, 10.000 iscritti, 100.000 iscritti, un milione di iscritti, io farò quello che mi sento è una promessa, ci vediamo in un prossimo video Ciao! Ciao!